Salve a tutti abitanti del mio mondo e benvenuti finalmente in un nuovissimo video del canale Ragazzi finalmente l'attesa si è conclusa, salmo a distanza di soli 3 anni dal suo ultimo disco da solista Quindi noi andiamo a contare cose del tipo Ma c'è di mixtape volume 4? Blood Divine il volume 3? Abbiamo finalmente pronto quello che sarà il suo nuovissimo album disco grafico Che uscirà quando? Il primo ottobre, annunciato quando? Il 17 settembre Neanche tantissimi giorni fa, rivelando sia l'hardwork dell'album e sia tutta quanta la tracklist Che vi posso mettere tranquillamente qua a schermo La cosa che ovviamente può attrare un po' in inganno, un po' come è successo in playlist Ci saranno featuring? O perlomeno ci saranno? Le ha messi nascosti? Non lo so Sta di fatto che finalmente noi abbiamo una data precisa dell'uscita del disco E penso già al titolo flop che sarà un disco molto molto autoironico Sicuramente prenderà un paio di critiche che gli sono state date nell'ultimo periodo Per esempio il salmo è cambiato eccetera eccetera Però è tutto da vedere O magari come tutti quanti hanno supposto una grandissima commercialata Che io onestamente in questa supposizione sto tipo un 50% sì un 50% no Perché va bene che salmo in fin dei conti ha sempre detto che non vuole cercare di essere Al 100% mainstream all'interno della scena Però diciamo nella maggior parte delle volte in cui cerca di annunciare qualcosa Sempre quella strategia di marketing che lascia sempre l'occhiolino Per esempio ha iniziato dissando l'FSK poi ci ha fatto un pezzo insieme C'è stato quel tra molte virgolette dissing a sua era quando in realtà non è stato un vero e proprio dissing E poi alla fine lui ci ha fatto addirittura un pezzo insieme in playlist Oppure quando lui sfotteva coezo ironicamente nelle stories di Instagram E poi ci ha fatto sempre un pezzo insieme in playlist Ma ritornando a noi perché commercialata? Perché tutti quanti adesso pensano questo? Beh semplicemente per il fatto che questo disco è stato annunciato un attimo dopo Che è iniziata tutta questa pandemia Non parlo del covid Parlo di tutta questa pandemia nei confronti di Salmo Per chi non lo sapesse c'è stata una guerra su Instagram Creata ovviamente per colpa di Salmo Non vorrei dargli le colpe a Salmo Però qui ragazzi al 100% ha dato il peggio di lui Che cosa è successo? Penso che molti voi lo sappiano Però ve lo ribadisco uguale Un po' come ha fatto lui Pechegno Ve lo ricordate? Ha mandato le foto del proprio membro ad un'altra persona Che poi alla fine non si è rivelata essere soltanto una persona Ma ben due persone Ma sa di fatto che si è rivelato essere molto molto immaturo Nei confronti di queste due ragazze Qui si oltrepassa veramente la zona base dell'immaturità E non lo dico perché voglio fare views Ma ragazzi onestamente parlando Questa qua è violenza psicologica sessuale E il fatto tra l'altro che rende ancora più grave questa cosa E il fatto che queste due persone non erano neanche d'accordo con l'azione di Salmo Mettendo anche tra parentesi che Salmo Da tutti quanti gli screen che sono stati fatti Era abbastanza compiaciuto da questa cosa E ciò segue un altro problema La community che segue Salmo Adesso che Salmo è diventato un influencer Senza neanche volerlo Grazie a tantissimi brani che l'hanno reso famoso E che sta diventando O meglio è già diventato una tra le tante icone del rap italiano Tutti quanti potrebbero tranquillamente Decidere di percorrere la sua strada Adesso ragazzi non ditemi che era fatta solo per hype Ok? Può essere anche vero che l'ha fatto per hype Perché come già vi ho spiegato prima Questo annuncio è stato fatto subito dopo tutto quello che è successo Perciò potrebbe anche essere così Ma ciò non giustifica il fatto di quanto sia sbagliata questa azione Poi si vede tantissimo quanto Salmo sia sopravvalutato Sia dalla community sua e sia dagli altri rapper Perché se non sbaglio nessuno Ma proprio nessuno è mai andato a parlare di questa cosa Magari una o due persone Ma probabilmente la prendevano per meme ecco Non la prendevano diciamo come una cosa grandissima a gestire E qui si può ricollegare un'altra cosa successa in playlist Per playlist ha fatto tantissime promole E poi la pubblicità che lui aveva fatto su Pornhub E qua la cosa di Pornhub E mostrare il proprio membro alle due ragazze Si può tranquillamente ricollegare a quel disco Magari farà anche capire che il concept sarà più o meno lo stesso Sarà una sorta di sequel Se così vogliamo chiamarlo Però ragazzi no, problemi a dirlo Dopo quello che ha fatto Mi è caduto un po' giù Ha mandato semplicemente gli screen a quelle due ragazze E dopo non si è mai espresso Quindi molto probabilmente lo farei in questo disco C'è da contare però in quale traccia Perché molto probabilmente le altre tracce Sono state scritte molto ma molto prima Ragazzi il video conclude qua Spero che questa nuova rap news vi sia piaciuta Come al solito se il video vi è piaciuto Lasciate like, commentate E iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto E condividete il video soprattutto Quindi ciao, alla prossima Grazie per la visione